bentornati sul canale della fata tutto fare che ne dite di realizzare insieme a me il progetto che avete visto nell'anteprima bene se così vi armate dei due strumenti fondamentali l'uncinetto del 6 e mezzo questo splendido filato che è il noa è un baby alpaca veramente dalla qualità straordinaria ed è perfetto per le lavorazioni per i più piccoli perché ovviamente quando andiamo a toccare questa sezione un occhio di riguardo va senz'altro speso proprio per i prodotti utilizzati ma non ci limiteremo a realizzare il progetto vedete ci sono un centimetro una maglia prendete naturalmente anche carta e penna perché vi do qualche dritta che senz'altro vi tornerà utile bene quando si tratta di andare a realizzare dei capi da bimbi quindi dalla zero mesi in su qualsiasi taglia il primo problema che si pone proprio sulle misure perché effettivamente c'è sempre un discorso molto ampio trovo sempre poco attendibili le tabelle che si trovano online perché non sempre riportano alla stessa età le stesse misure in termini di altezza circonferenza torace e quant'altro quindi io credo che alla fine dei conti la cosa più semplice da fare per poter realizzare un capo da bimbo sia partire da un capo già esistente e questa secondo me è la cosa più semplice perché abbiamo un termine di paragone continuo con il quale poter fare un confronto rispetto al lavoro che stiamo eseguendo oggi come per altri progetti siamo partiti con un progetto partiremo con un top down quindi con un pezzo che si costruisce dall'alto che è il modo anche più semplice per costruire un capo ovviamente discorso che si può riportare anche sull'abbigliamento da donna ma oggi noi lo vediamo nello specifico per quello da bimbi io ho preso delle magliettine basiche come queste che sono delle magliettine veramente molto semplici questa non ha neanche la chiusura quindi ci affideremo proprio al suo giro collo ok quindi quando io voglio avviare un progetto da bimba cosa faccio o da bimbo perché in questo caso comunque non c'è differenza particolare questo è un capo due anni con vestibilità due anni cosa devo fare innanzitutto devo andare a partire con la catenella la mia catenella sarà una catenella capace di andare a ricostruire la misura del collo della maglietta questa è una maglietta due anni il collo è pensato in proporzione anche alla testa perché ovviamente deve passare dalla testa non avete bottoni né chiusure sulle spalle quindi nel momento in cui io come ho fatto con il filato noa e l'uncinetto 6 e mezzo ma qualsiasi filato con qualsiasi uncinetto cosa dobbiamo fare dobbiamo fare in modo che la catenella vada a corrispondere allo scollo della maglia vedete in questo modo li va a corrispondere quindi io faccio la mia catenella vedete la faccio passare in questo modo intorno al collo anzi vedete sono anche molto più abbondante di due o tre maglie rispetto alla circonferenza proprio più fiscale ma preferisco essere un po più morbida in questo modo diciamo inserire la maglia dal collo risulterà meno fastidiosa quindi come potete vedere tenendo fede ad una maglia che sicuramente avrete già ok potete avviare già la catenella in questo modo quindi indipendentemente dal filato o dal numero di uncinetto che state utilizzando in questo spazio ok che è di circa 45 cm adesso misuriamo la catenella andiamo poi a misurare a contare quante catenelle ci abbiamo inserito e quindi in base a questo andremo a fare la suddivisione io ho in questo modo 45 cm di lunghezza quindi la mia catenella praticamente è 45 cm calcolando che intorno a due anni la circonferenza della testa dovrebbe essere 46 48 anche qui sempre con un certo margine di flessibilità essendo poi un lavoro all'uncinetto che a sua volta è morbido sicuramente questo è uno scollo abbondante quindi per la due anni va bene quindi partiamo sempre da questa idea indipendentemente dal filo utilizzerete un uncinetto che vi fa lavorare bene quel filo andrete a prendere come riferimento lo scollo di una maglia di una felpa di un capo di appigliamento dell'età di riferimento in questo caso due anni e quindi andando a fare la catenella come lo scollo abbiamo già un termine di paragone quindi io adesso vado a chiudere la catenella che nel mio caso è di 50 maglie se non erro poi ricontrolliamo e una volta che ho chiuso vado ad avviare il mio sprone come vi ho fatto vedere per altri capi di abbigliamento da donna lo sprone si andrà ad allargare fino a quando gli angoli degli aumenti non andranno a toccare sotto manica quindi andranno praticamente a coprire questo spazio che in termini di centimetri in questo caso è di 11 centimetri ok quindi andrò a fare ovviamente adesso una scollatura più ampia vado a costruire il mio top down fin quando praticamente gli angoli non mi permettono di compensare questa misura da un sotto manica all'altro io ho 28 centimetri quindi so già che la parte lui lato lungo del mio capo dovrà essere di 28 centimetri e questo è già un buon presupposto poi ovviamente il l'avvio del lavoro si adatta perfettamente sia al maglioncino sia alla blusa sia all'abito una volta chiuso il nostro sprone potremo farlo diventare quello di cui abbiamo bisogno quindi una volta prese le nostre 50 catenelle vado a chiudere la prima con l'ultima formando un anello che come vedete comunque morbido rispetto al colletto e scelgo il punto di lavorazione che potrebbe essere punto basso, mezza maglia, maglia alta a seconda di quello che voglio andare a realizzare quindi rientro nel primo punto di lavorazione e comincio la lavorazione a punto alto in questo caso io vado a lavorare col punto alto e vado a dividere il mio sprone in questo caso l'ho diviso in 15 maglie alte che sono quelle relative al lato lungo e 10 per quanto riguarda la sezione delle maniche 15 10 15 10 ve lo scrivo comunque sovraimpresso nel video quindi a questo punto parto dal lato lungo e vado a realizzare 15 punti alti consecutivi realizzate le nostre 15 maglie alte vado semplicemente ad aggiungere 2 catenelle di separazione non salto alcun punto di base e vado a fare adesso il tratto della manica che invece sarà composto da 10 punti alti realizzata la maglia numero 10 quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aggiungo sempre le mie 2 catenelle di separazione vado nel primo punto di base disponibile e ricomincio questa volta farò il tratto da 15 aggiungerò 2 catenelle e lavoro le ultime 10 in questo modo avrò formato il mio sprone occupando tutte e 50 le catenelle disponibili dopo aver lavorato i nostri 4 segmenti quindi 15 10 15 10 separati da 2 catenelle questo è lo sprone di partenza quindi andandolo a ripiegare in questo modo vedete avete già comunque una forma attendibile andiamo e andiamo a circondare il collo della maglietta che abbiamo preso come riferimento io l'ho voluta leggermente più abbondante come scollatura perché poi possiamo sempre ripassare la catenella di avvio con una riga di punti bassi o di punti alti stringendo leggermente preferibile che fare una catenella stretta e poi non farla passare dalla testa quindi mi sono tenuta volutamente abbondante voi sapete che comunque la catenella è più corta rispetto a quello che è il punto alto perché è il punto più piccolo quindi quando lavoriamo le maglie alti il lavoro si va sempre un pochino a dilatare quindi l'avevo comunque preso in considerazione quindi vedete lo scollo è comunque leggermente più comodo ma niente di importante per chiudere il giro andiamo a fare 2 catenelle adesso non ve l'ho fatto vedere ma lo rifacciamo dopo aver fatto la maglia numero 10 l'ultima aggiungo semplicemente 2 catenelle e vado a chiudermi con una maglia bassissima sul primo punto disponibile in questo modo il primo giro è completo adesso praticamente non dobbiamo fare altro che proseguire la nostra lavorazione andando a lavorare punto su punto le maglie alte o il punto che avrete prescelto perché ovviamente io sto lavorando a punto alto potrebbe essere mezza maglia o punto basso vado a lavorare punto su punto le mie maglie fino ad arrivare al primo aumento raggiunto il nostro primo aumento vado all'interno e vado a posizionarmi con punto alto punto alto catenella punto alto punto alto allora gli aumenti si possono fare in diversi modi 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte 2 maglie alte 1 catenella 2 maglie alte diciamo che cambia poco nella sua formula e poi vado a ricominciare punto su punto la lavorazione ovviamente ogni segmento quindi noi ne abbiamo 4 va a crescere di 2 più 2 di 4 maglie quindi il segmento da 10 passa a 14 poi ne passa a 18 22 e così via dicendo quindi se volete controllare la correttezza del lavoro dovete verificare che ogni tratto del vostro sprone cresca di 4 maglie alte per volta e procedo in questo modo questo è il successivo aumento come vedete lo spazio delle due catenelle quindi vado a ricominciare i miei aumenti facendo due punti alti consecutivi una sola catenella di separazione di nuovo due punti alti e procedo nel tratto successivo quindi come vedete si tratta di lavorare punto su punto le maglie e di lavorare l'aumento ogni volta che incontriamo lo spazio delle catenelle questo andrà fatto per tutti i giri naturalmente quindi ogni giro si va a chiudere con un punto bassissimo e si riavvia si andranno a lavorare punto su punto le maglie alte in modo da crescere progressivamente il nostro lavoro poi di tanto in tanto lo andiamo ad appoggiare ovviamente al capo che abbiamo preso come riferimento per sincerarci che il procedimento che stiamo seguendo è corretto e comunque stiamo raggiungendo la taglia da noi desiderata quando completiamo il secondo giro andiamo a finire l'aumento quindi entriamo nel primo punto disponibile blocchiamo con il punto bassissimo catenelle punto alto preso nello stesso punto per ricominciare e andiamo a proseguire la nostra lavorazione punto su punto le maglie alte e mettete l'aumento sull'aumento come vedete il procedimento è molto semplice l'abbiamo usato tante volte e facciamo per l'ultima volta gli aumenti poi andiamo a crescere il nostro sprone appunto fino alla misura della sottomanica vedete? questo è il vostro aumento quindi entro lavoro punto alto, punto alto catenella di separazione punto alto e punto alto e nel primo punto disponibile che questo ricomincio il mio lavoro vi ricordo che aumentiamo di 4 maglie per segmento ad ogni giro e con soli 5 giri potete vedere come il nostro top down vada a vestire benissimo per la taglia 2 anni vi ricordate che siamo partiti da una catenella che era leggermente più ampia della scollatura della maglia abbiamo proseguito la nostra lavorazione mettendo sempre i nostri 4 aumenti in fila e con sole 5 righe siamo arrivati alla fine della costruzione del top down come ce ne accorgiamo? allora come vi dicevo quando la larghezza del lato lungo va a compensare lo spazio che si trova nel sottomanica quindi avevamo 28 cm e adesso li abbiamo anche col nostro top down quindi andiamo vedete a coprire la distanza che si trova tra la spalla e il sottomanica l'ampiezza della manica corrisponde esattamente a quella della manica della maglia così come la distanza tra una manica e l'altra quindi abbiamo la circonferenza perfetta per 2 anni ora da questo momento in poi il vostro capo che sapete già avere la vestibilità a 2 anni può diventare quello che voi desiderate se decidete di fare un abitino chiudete qui il raglan e poi potete proseguire con il punto di lavorazione che volete ovviamente quando si fa l'abito si tende ad aumentare infatti adesso vi faccio vedere anche come per creare un taglio a palloncino se volete una maglia una volta chiuso qui con l'aumento procedete andando dritti oppure inserendo se volete degli aumenti per fare un modellino più svasato più scampanato perché potrebbe essere ovviamente l'avvio per una maglia per un maglioncino magari ripreso sotto con un effetto elastico potrebbe essere una maximaglia un abito lo sprone e l'avvio per tanti modelli ok? poi da qui naturalmente trasformerete questo capo in quello che desiderate se non chiudevate la catenella ma facevate lo stesso lavoro dividendo qui a metà avreste potuto fare un giacchino oppure un cardigan quindi avete già perfetta l'ampiezza della manica e la circonferenza a questo punto tutto quello che va fatto è chiudere i nostri raglan e proseguire nel modo desiderato quindi a questo punto procedo lavorando punto su punto le maglie fino ad arrivare al primo aumento legheremo l'aumento con quello successivo sia da un lato che dall'altro in questo modo avremo chiuso completamente il raglan vedete è molto semplice il riferimento che vi ho dato quindi potete fare uno smanicato potete aggiungere la manica ovviamente avendo come riferimento la maglia la camicia la filpina che avete preso sapete esattamente anche quanto deve essere lunga la maglia e quanto deve essere lunga la manica quindi assolutamente non vi potete sbagliare questa è veramente la tecnica più semplice in assoluto una volta arrivati all'aumento vedete nello spazio dell'aumento io vado ad eseguire una maglia alta filo sull'uncinetto vado nell'aumento successivo entro nello spazio dell'aumento e lavoro l'altra maglia alta quindi un totale di due maglie uno in un aumento e uno sull'altro e vedete questo è lo scalfo della vostra manica arrivati all'altro aumento facciamo la stessa cosa un punto alto in un aumento e un punto alto nell'aumento successivo vedete come il nostro sprono in questo modo è chiuso le maniche sono state formate e quindi adesso possiamo proseguire soltanto su questa parte ovviamente io vado a fare un taglio abito quindi vado a creare anche degli aumenti per creare un po' di volume se volete fare una maglia andate giù dritti se volete fare una maglia dal taglio a trapezio diciamo che ogni tre righe potete fare tre punti di aumento in questo modo vi prende una forma leggermente sbasata ok quindi diciamo questa è la costruzione quindi io vi vado comunque a realizzare un progetto ma la parte diciamo così più strutturata di questo tutorial è relativa alla partenza e a come prendere i riferimenti per poter sviluppare le taglie completo il giro e nella prossima vi faccio vedere come creare degli aumenti velocissimi ed estremamente semplici per poter creare un taglio paglioncino adesso una volta chiuso il nostro raglan vado a sistemarmi dei marca punti se volete essere molto molto precisi dovete andare a contare tutte le maglie alte disponibili e quindi sezionarle facendo in modo che capitano in modo equidistante l'uno dall'altro ma non c'è bisogno di essere troppo troppo fiscali prendete il punto di riferimento al centro e poi vi distanziate in questo caso di 8 maglie da una parte dall'altra non tocco il laterale ma vado a prendere lo stesso riferimento anche dietro quindi vado a fare 6 aumenti nei punti segnalati sia da un lato che dall'altro quindi prendiamo la metà in questo caso io ho contato 8 punti in base alla taglia di riferimento io diciamo ne ho messe 3 che mi sembrano proporzionate alla misura che sto facendo arrivati al primo marca punti lo vado ad eliminare e nel punto da me segnato vado ad inserire 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 e 5 quindi faccio 5 maglie alte queste daranno forma ad un piccolo una piccola piega che si andrà ad accentuare via via nelle righe successive quindi vado ad eseguire le maglie di separazione fino al primo marca punti utile e in ogni uno dei marca punti quindi 6 in tutto 3 sul lato 3 sull'altro andrò a inserire un totale di 5 maglie vedrete l'effetto più volete accentuare l'effetto più volte andrete a ripetere questo lavoro cioè di inserire magari con intervalli più regolari anche a 5 punti di distanza l'uno dall'altro poi dipende da quante maglie avete nell'ultima riga le contate e se riuscite a metterle in modo sistematico riuscite ad inserirne diverse vi viene un effetto a palloncino ancora più evidente insomma ecco dipende dall'effetto che volete ottenere in questo caso io non lo voglio molto accentuato siamo di nuovo ad un punto marcato tolgo il marca punti in questa maglia lavoro 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 vedete? in questo modo adesso procedo lavorando naturalmente tutte le maglie di separazione qui ripeto nuovamente il lavoro e quindi faccio altrettanto nei punti che si trovano dall'altro lato ripetiamo di nuovo una due tre quattro opla tre 4 e 5 il marca punti lo tolgo che non mi serve più e adesso procedo completando l'altra riga nella stessa maniera ho chiuso appunto bassissimo e in questo giro per tutti i giri successivi non farò oltre che lavorare punto su punto le maglie infatti le aumente si fanno in una sola riga li abbiamo appena fatti lavorando 5 maglie alte in un unico punto di base adesso continuiamo a lavorare punto su punto le maglie vedrete che questi gruppi di 5 maglie che noi abbiamo creato in 6 punti totali sulla circonferenza formeranno dei coni delle piccole onde che vanno a dare il taglio a palloncino che è perfetto sia per la maglia per una blusa insomma per anche una felpina potrebbe essere un cappottino poi lo faremo un cappottino con questo taglio però mettendo più volumi di quello che io ho fatto in questo momento e quindi vado a procedere punto su punto chiudo i miei giri ricomincio e lavoro una maglia per ogni maglia sottostante fino a raggiungere la lunghezza desiderata guardate come si presenta la nostra blusa una volta terminata è veramente molto molto semplice a realizzarla io ho messo un dolce vita panna sotto e ho messo giusto tre friullini basici semplici semplici per risaltare questo bellissimo punto di salmone di rosa salmone con il quale ho voluto realizzare questo abitino vi assicuro che l'esperienza di questo filato è sorprendente perché come vi dicevo la lavorazione è tricottata come se fosse una catenella invece di fili arrotolati quindi si lavora molto molto velocemente il filo non si apre e come vedete insomma la trama del lavoro risulta bella chiusa al tempo stesso è veramente una piuma molto molto soffice guardate invece l'effetto che viene fuori da quel gruppo di aumenti che abbiamo realizzato vedete questi coni appena accennati sono quelli che danno la morbidezza quella arricciatura classica proprio degli abitini dei cappottini che hanno un taglio a palloncino tanto più volete che questo effetto sia enfatizzato tanto più ne andrete ad inserire io ne ho messi tre davanti e tre dietro ma volendo si possono distanziare anche di poco per avere un effetto a palloncino molto molto più evidente ma poi senz'altro lo realizzeremo quindi vedete come neanche inserendo le maniche quindi veramente qui ci sono due ore di lavoro si riesce a fare un capo anche elegante perché qui basta veramente una gonnina una calzamaglia un anfibietto sotto e una bimba di due anni si veste in modo eccezionale calcolando che abbiamo usato anche un filato veramente strepitoso per i bambini quindi via via adesso sia nella scuola di uncinetto che nella sezione bebè andremo a proseguire questa sequenza di progetti andandosi a studiarci un pochino più da vicino ma in modo semplice come avete visto la struttura della taglia e sia anche trovare ecco degli escamotaggi semplici come questi per poter dare dettagli un pochino singolari ai nostri capi questa è una due anni così una blusa la fate un po' più lunga ottenete naturalmente un abitino un mini abito eccetera e spero che tutte le indicazioni che vi ho dato vi riescono ad essere di aiuto soprattutto quando andate a sostituire filate oppure se volete fare una taglia diversa avete visto che avendo come riferimento una maglia una filpina che già avete il lavoro sicuramente vi risulta più semplice grazie per avermi seguito come sempre io vi aspetto in un'altra lezione scuola di uncinetto alla prossima